C'era una volta il centrodestra. La coalizione che qualche mese fa sembrava unita si è sfaldata in vista delle amministrative di giugno in quanto Fratelli d'Italia è approdato alla Corte dell'assessore regionale Andrea Gerosolimo e Sovranità correrà da sola con Alberto Di Giandomenico candidato sindaco. A trarre le conclusioni è la senatrice Paola Pelino che dovrà comporre la lista di Forza Italia senza l'appoggio degli altri partiti del centrodestra. Doveva essere una coalizione di centrodestra però abbiamo visto che una parte di Fratelli d'Italia si è sfilata per altri lidi come si suol dire che c'è un candidato che si è già del centrodestra che si è messo da solo come candidato sindaco. C'è Forza Italia e Forza Italia andrà avanti. Questo è quanto ha affermato oggi la senatrice Pelino durante la visita all'ospedale di Sulmona dell'onorevole Mara Carfagna. Forza Italia pur di non fare brutta figura cerca altri alleati. A Renato si già sul nascere il progetto che proponeva di mettere insieme con Forza Italia ex DS e l'ex sindaco Franco Lacivita. Al vaglio c'è ora l'ipotesi di un'alleanza con Bruno Di Masci. A spingere verso questa direzione sono Donato Di Cesare, ex capogruppo del PDL nell'amministrazione Federico e Sandro Ciacchi, candidato del centrodestra alle regionali del 2014. In questo momento si sta parlando di tutto, sino a quando non usciranno le liste ufficiali e le candidature ufficiali. Io come ho già detto rimango sulle mie posizioni, sono un parlamentare di Forza Italia quindi avrò la lista di Forza Italia, avremo altre liste che staranno a sostegno del nostro candidato e quindi credo che ci avviveremo verso questa definizione. C'è attesa per la scelta del candidato sindaco di Forza Italia che non dovrebbe essere il consigliere comunale uscente Luigi Lacivita. Al momento sembra essere questa l'unica certezza.